Io ho sentito che stava in effetti, sono stati detentati, dicono probabilmente dal punto di vista di chi ha presentati, come è riuscito, secondo me, molto, così dire, con una massima rispettiva di fare questa amministrazione. E' una verità, le cose che lei ha detto, l'ingresa di questa punta, le fanno amore, partendo lei a questa punta, però l'indivizio sulle cose e sulle obiettivi raggiunti, non quelli che non hanno, in campagna naturali, in campagna di spi, due anni e mezzo di amministrazione, la comunità di spi. L'obiettivo, sui obiettivi raggiunti questa città, la città di Vincenzo, e non che hanno già senso di loro, quindi io ho l'indiquente, assessorino, ma ho mai bisogno di ascoltare il pubblico. Noi speriamo di agliare, poco prima, dell'indizio di conferenza, potersi, diciamo, che stiamo, diciamo, diciamo, poco efficace, sia stato, sia stato, sia stato, il terreno, da parte della professoressa Magia Cazza, di organizzare che, poi di nuovo, le cose che vengono da fare, noi dobbiamo fare la tecnologia, che fa parte tutto del gioco, e voi, per il quale la posizione, volete, per fare la tecnologia, da parte CFS, non lo insegnare, ma... e dice le cose che effettivamente si mette anche per vedere cose culturali e le promesse che si possono mantenere. Io vorrei lavorare e mandare a contendere un momento che è stato detto perché non ci ero per io. E allora come si manda dalla signora Campisi in campagna del Carano? E cos'è? E' una tecnologia? Capo Filippo, mi chiede così. E allora, come se fate, fino ad ora, da signora Campisi in campagna di sviluppo in discontinuità, presunta con la docente di espressione, cos'è? E' una tecnologia? Poi, caro consigliere di consigliere, perché tutte queste promesse e tutte queste cose, dentro la mano, proprio la mano, dentro la mano, dentro la mano… Ma, durante la mano, non tanto più. Vi trovi, la conferenza stabile. Non metterla. Assessore signorina, perché voi, un presidente, unutendo un'unicazione, 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 un'unicazioneairyismo. In conferenza stabile! Porque la confermia, una conferenza sottile, dell'unicazione, un'unicazione di comunali, certaine, non sono più facile, far vedere queste cose. La scuola, quando la vogliamo mantenere, è molto più difficile. E ripeto, all'inizio, se lei va a dire un cittadino, è stato già espresso da cittadini, anche da quelli che avevano un po' bravo dell'unità di scuola. E alcuni consiglieri comunali sono stati costretti oggi a chiedere «Scusa che voglia di scuola, questa cosa non si era mai vista». Ecco, perché io credo che lo suo sia un tentativo male, purtroppo, e si dirige tutto a cambiarsi soddisfatto. Io credo che, invece, non si è piantologia presentare ancora una cosa. E' perché loro chiedono consideri che lo sia. che ha dato un strumento a questo consiglio comunale di direttere gli interessi di questa società, se non quella di presentare i luoghi di loro, e le mani di loro. che ha dato un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa, ma, se sei un'altra cosa. Se tu sei un'altra cosa, gli sfruttiscarei il nostro momento indiresso. Se questo è il terrorismo, gli sfruttiscarete il nostro momento indiresso per fare scontro ad andare a fare l'alermo con questa maggiore è una situazione che sfugge continuamente agli sfruggerimenti e alla città che hanno il controllo e questo è il Consiglio formale, tra questi due anni, ha continuato cercato solo i problemi maggiori di questa città, a partire dalla città e questa è la notizia, questa è la Consiglio formale che non può essere definita ne è la regia, ne è il populismo diamo il ridotto del 40%, il 40% che era stato portato nel momento dell'avverso della conquista di questa città, rappresentata a questo Consiglio formale e sui valentini verificati, poi vedremo, vedremo, vedremo dopo visto che questo ciclo si è avuto l'anno, la sognatezza di opporsi e di impugnare una deliberazione ottenuta dalla base humanità di questo Consiglio formale è un pochettigliata di cittadini, anche firmato e anche posto, non lo firma su questa proposta di diritto e allora proprio perché, vuoi pensare, risalto di fare strategia e comunismo io ritengo che questo Consiglio formale, che è stato portato a portare il senato di diritto, il senato che proponiamo facilità e consenso del dovere dell'attaccamento dedicato a questa città proponiamo questa amministrazione e a questa città e a questo città certi, certi come siamo e per questo il senato di diritto che il senato di diritto, probabilmente il senato città non sa che cosa fosse e la libertà, hanno un robot, un atto scegliato un atto di comunicazione un atto, quindi diciamo, che mi ha soffriato a meno delle difficoltà ma invece, è la precisà della presentanza degli interessi a questa storia e questo è il senato di diritto il senato di presentare la legge l'ordine del giorno che è nato dai consiglieri che ha avuto il posto la prima con la valutazione della Commissione di Presidenza e provando di mettere l'interpolazione sono certi consiglieri comunali con il senato che l'attore di interacchisi con generale da quanto più conto e con adesso in carattina del locale ha mostrato scarsa sensibilità e attenzione con le persone di questo momento ha un po' di anni inizio ma invece hanno costruito inizio 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 quindi se il senato di il senato di la capacità del personale interno alla società più importante per vedere, lo dichiaravano più forte alla staffa e alla parte della televisione. I nomi dei consulenti degli esperti erano proprio per sorprendere alle capacità e alle insufficienze. Capacità, naturalmente, sotto i testi, non bisogna dire questo, ma alla insufficienza del personale interno. Perchè quindi il Consiglio a ogni modo, a ogni modo dei consulenti esterni, non solo mi ha portato un visibile a andare dalla città, ma al contrario ha disincentivato e demotivato il personale interno, diventando gli stessi consulenti esterni, più volte motivo di contrasto con il Consiglio che non ha, e ciò che non è venuto. In un punto che, il SIGLA non ha mai presentato questo Consiglio comunale, perché la relazione è umana, e che anche se questo, probabilmente, è un diventativo di relazione umana, se sorprendo, ma anche con una madre che è l'occhi, della punta che è la SIGLA. che è la SIGLA. Questo è il quale risposta. non ci sono più i soldi radicali risultati che sarebbero stati raggiunti da suoi esperti. La somma impegnata per gli studenti esperti, e soprattutto da un senso di circa un milione di euro, e che, per insomma, infinitamente, potrebbe essere investito sui personali terzi. nonostante che mi fa 7 giorni di minuta, e naturalmente ho un intervento a chi è presente, sicuramente, non è veramente casual, nel senso del tempo a parte, quindi i tipi elettrici che sono stati terminati, e quindi hanno fatto parte di questo impasto, però chiaramente non mi chiedessero anche di poter, questa no, per questa stanza, e quindi nonostante che basta che hanno venuto da un servizio da un piano di roba, delle persone amiche, le persone amiche. Nel viaggio in un futuro, nel 2010, si identificava per effetto della crescenza, ma non è stato di circa un milione di euro, e non è stato utilizzato da persone che inseriva l'informativa ed è il crimico nazionale e il nazionale interno. Questi sono fatti. E ho assoluto di sentire una possibilità dei dipendenti in questo tempo. E non credo che sia in grado, dei suomani, se dovessi perdere un livello alto a queste cose che devono fare. Un impegno, simile con la sua tutta, ad aprire, generalmente, il confronto con le organizzazioni generali del Consiglio Romano, giurazione nazionale. A evocare, dal proprio immediato, tutti gli incarichi a cittadini esterni, a presentare a questo Consiglio Romano l'altra persona nomale, a dipendere da qualche parte di tutti i centri, delle somme di cittadini esterni, delle somme di cittadini, 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 per effetto della crescenza e della stabilizzazione montagna. del personale del mercato, alla professione del mercato, che ha avvenuto un istituto di esperanza all'alto. Speriamo, vivamente, che lo voto, questo documento, si esca dalle parole, e finalmente, attraverso i riferiti di questa amministrazione, che, quando ci sarà, se hai diventato, e questo è il mio ragazzo, che è un anno, che è un anno, che è un anno,